Inizieranno la prossima settimana i collegamenti diretti giornalieri dal porto turistico di Capodorlando alle Isole Olie. Stamattina nella struttura portuale di Contrada Vagnoli è stato siglato l'accordo tra il presidente della società porto turistico Capodorlando S.P.A. Francesco Federico, il direttore Enza Di Raimondo e i responsabili della Tarnav, storica società di navigazione messinese, e della Visit Sicily Tour del gruppo Lombardo. Erano presenti anche il sindaco Franco Ingrillì, gli assessori Rosario Milone e Cristian Gerotto e il presidente del consiglio Carmelo Galipò. Venerdì si svolgeranno le prove di attacco alla banchina e dalla prossima settimana verrà attivato il servizio, inizialmente con l'utilizzo di motonavi e poi dal mese di luglio, grazie all'impiego di Mono Carena, in grado di trasportare oltre 350 passeggeri e di raggiungere le olie in 40 minuti. Nel periodo clou dell'estate i mezzi impiegati verranno raddoppiati. Chi vorrà visitare Lipari e le altre isole dell'Arcipelago e Oliano potrà farlo in modo autonomo, quindi acquistando un biglietto per il singolo viaggio oppure sfruttando i tour organizzati dalle compagnie. Ringraziamo la società Porto Turistico e le compagnie per lo sforzo congiunto fatto per dotare la struttura di Contrada Bagnoli di un servizio turistico essenziale, ha commentato il sindaco Franco Ingrillì. Con il collegamento con le olie crescerà l'economia e il movimento di persone non solo nell'area portuale, ma anche in tutto il comprensorio, perché contiamo di attrarre visitatori in transito dall'Arcipelago che vogliono scoprire le bellezze di Capodorlando e dei Nebrodi. Per l'assessore al turismo Rosario Milone si tratta di un momento importante che abbiamo fortemente voluto in seguito. Siamo riusciti a mettere attorno al tavolo le parti interessate nell'esclusivo interesse di Capodorlando e di una struttura che va sfruttata al massimo delle sue potenzialità. Grazie alla sinergia instaurata anche con tutte le agenzie di viaggi ci sono tutti i presupposti per un'estate da incorniciare, senza tralasciare il fatto che sono state gettate le basi per un collegamento che guri tutto l'anno.